Confagricoltura ha scritto all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e politica di sicurezza Federica Mogherini, ai commissari al commercio e all'agricoltura e agli europarlamentari italiani per chiedere una valutazione d'impatto preventiva adeguata degli effetti di un eventuale rinnovo delle condizioni agevolate alla Tunisia per le esportazioni di olio in Unione Europea, concesse in via eccezionale per il 2016 e il 2017. I problemi per i produttori europei e in particolare per quelli italiani, rimarca l'organizzazione degli imprenditori agricoli, sarebbero gravi e influenzerebbero negativamente gli equilibri del mercato interno europeo e le quotazioni dell'olio d'oliva nel nostro paese, considerato anche che nei due anni in cui il provvedimento è stato attivo non si sono riscontrati vantaggi per il mercato e l'economia tunisina. Confagricoltura, che già nel 2016 si era mobilitata in merito, ha chiesto di avere molta cautela di fronte a questa recente richiesta della Tunisia. L'appello non è rimasto inascoltato, infatti diversi parlamentari hanno già mostrato interesse alla sollecitazione dell'organizzazione e hanno previsto iniziative a riguardo sulle istituzioni comunitarie. Grazie a tutti.